ciao dal parco morea sono andrea e stiamo ultimando le ultime cose per quest'evento di stasera per l'open house di questa sera dalle 17 alle 20 e niente gli argomenti che tratteremo saranno molto interessanti soprattutto diciamo per chi ha curiosità di conoscere come verrà gestita la permuta e potremo parlare di tutti i dettagli poi ci sarà un'occasione inedita parlare con l'architetto sabato strianese e anche uno dei rappresentanti della delle imprese di costruzioni che hanno che ha realizzato il parco morea quindi se hai solo una curiosità oppure se interessato a non so staccarti dal centro città e vorrei venire a vivere in quest'angolo di paradiso ti aspetto stasera dalle 17 alle 20 potremmo parlare tranquillamente sostergiando una granitica di limone o un sorbetto di limone della costiera maffitana IGP ok ti aspetto anzi vi aspetto tutti non mancate ciao dal parco morea